ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo glitch che potrebbe essere buono sia per i soldi che per passare le auto qualunque genere di auto ad i nostri amici allora i requisiti necessari sono avere due garage nello stesso edificio una rebel stare senza soldi e non essere gli host della sessione allora quando abbiamo tutto questo cosa dobbiamo fare dobbiamo chiedere a un amico che ci vuole passare la macchina di parcheggiare la macchina come vedete davanti al garage in questa posizione dopodiché noi che siamo senza soldi andiamo a chiamare la meriweather e andiamo a dirigerci verso il nostro garage nell'attimo in cui stiamo per arrivare dobbiamo schiacciare x in maniera che si crei questa cinematica non dovrà caricare la cinematica del garage ma dovrete vedere solamente il palazzo andrete nello store dopodiché sarete nello store anche che non funzionerà andrà bene lo stesso è solo importante che farete questa cosa uscirete entrate dalla sessione dopodiché sembrerà come se il vostro personaggio non correrà effettivamente non correrà molto avrà le gambe flush e lì il glitch starà funzionando a questo punto cosa dovete fare rimanete seduti nell'auto e pam respawn in garage con l'auto del vostro amico ragazzi niente di più semplice provatele un paio di volte e un consiglio che vi do approfittatene perché comunque il glitch potrebbe essere patchato da un momento all'altro visto che hanno mandato un intera patch di hotfix quindi sapete tutti questi glitch durano pochissimo e per quanto riguarda l'auto potrete venderla ottenerla dipende da quello che volete farci voi quest'auto vale pochissimo perché il mio amico con questo personaggio sta a livello 10 quindi aveva poche modifiche bloccate quindi quest'auto vale veramente poco allora andandolo a vendere vi pagherà solamente il prezzo delle modifiche non vi pagherà il prezzo dell'auto quindi scordatevi che vi darà il prezzo pieno tutte queste cazzate che comunque non succederà l'unica cosa di buono di questa glitch diciamo è che avrete il bypass dei 48 minuti 45 minuti insomma quanti cazzo so sti minuti c'è il bypass perché potrete vendere queste auto una dietro l'altra non basta che avete un amico che ha pazienza per starvi dietro niente ragazzi per questo glitch è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti